La dodicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli amiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. E andiamo a premiare la boutique di eccellenza dell'anno penale d'impresa. E il premio va a SFB Avvocati. Ecco, anche qui il team che arriva, andiamo a leggere la motivazione per essere una giovane boutique nata con l'obiettivo di diventare uno stabile riferimento nazionale in ambito di assistenza alle imprese, per saper gestire con successo non solo complessi processi penali, ma anche societari e fallimentari, assicurando a esponenti aziendali e società un'assistenza completa in tutte le fasi più delicate dell'attività economica. Buonasera e complimenti. SFB Avvocati. Tanti e le giuste risette. E certo, assolutamente sì. Foto di Rito senza mascherina, passo in avanti. Via la mascherina, passo in avanti e gli scatti. Fate un po' di spa, ecco, perfetto. Boutique di eccellenza dell'anno. Adesso però aspettate, aspettate, aspettate. Posizionatevi un attimo qua sul retro del palco. E ogni tanto agli humor ci sono delle sorprese, non è che c'è sempre... Vi teniamo qui in ostaggio ma per pochi secondi, insomma. Adesso capirete perché, Giacomo, svelalo tu, va. Perché adesso andiamo a premiare anche l'avvocato dell'anno, boutique di eccellenza penale d'impresa. E tu prima hai usato The Winneries, quindi gli dico The Awards Goes To. Va bene. Avvocato Luca Fanfani, SFB Avvocati. Eccolo! Ce l'avevamo già qui. E abbiamo fatto rimanere sul palco tutti, ovviamente. E vi leggo anche alla motivazione, ovviamente, per il grande e importante... Mi ero spostato per non essere d'intralcio, ma per il grande e importante percorso professionale di oltre 13 anni al servizio delle imprese per la capacità di abbinare la complessa pratica giudiziaria con l'attività dottrinaria in ambito di diritto penale dell'economia. Per la professionalità, la competenza e l'affidabilità. Avvocato Luca Fanfani, complimenti ancora. Complimenti, grazie a tutto il team, naturalmente, all'avvocato Fanfani. Complimenti alla vostra squadra di SFB Avvocati. Siamo in compagnia dell'avvocato Luca Fanfani, fondatore di SFB Avvocati. Buonasera e benvenuto. Avvocato, questa sera lei e il suo studio avete entrambi ottenuto un riconoscimento nel settore del penale d'impresa. Come commenta queste due vittorie? Devo dire che prima ancora dell'epilogo fedice di questa serata la soddisfazione vera l'abbiamo avuta qualche tempo fa quando ci avete contattato per dirci che eravamo stati selezionati per poter partecipare ad un evento così bello, così importante con un parterre ricco di professionisti che sono anche per me dei punti di riferimento. Quali sono i tratti distintivi dell'assistenza all'impresa? Sia in campo penale che civile e societario che contraddistinguono il suo studio anche rispetto agli altri. È uno studio che nasce dall'incontro di StudiCAN, una storica competenza in ambito penale al quale si abbina una competenza anche in ambito di diritto societario nell'ottica e in un'ottica unitaria di assistenza all'impresa nella convinzione che la multidisciplinarietà nell'assistenza all'impresa sia assolutamente premiante, sia ciò che l'impresa richiede, di essere accompagnata lungo l'arco della propria attività, lungo tutto l'arco della propria attività. Peraltro l'incontro fra penale e civile in ambito di diritto d'impresa è un incontro assolutamente proficuo. Basti pensare che i reati societari, i reati di bancarotta, sono reati che contengono in sé la violazione di regole civilistiche. In questo senso, quindi, riteniamo che l'incontro fra penale d'impresa e civile d'impresa sia un incontro assolutamente virtuoso e ci proponiamo questo obiettivo. Ecco, diciamo che c'è un atto, una rivoluzione nella professione del penalista, quindi le volevo chiedere se, diciamo, se secondo lei c'è qualcosa che accomuna il penalista di oggi con il principe del foro del secolo scorso e glielo chiedo proprio perché so, insomma, che ne ha esperienza diretta nella sua famiglia essendo, insomma, tutti avvocati da molto tempo, da oltre un secolo. Eh sì, già mio bisnonno era avvocato, poi mio nonno, mio padre, ora io. La professione di avvocato è cambiata tanto. Non sono sicuramente io il primo che ve lo rappresenta e vi rappresenta specialmente un cambiamento epocale nell'ambito del penale d'impresa. Altri settori del diritto penale hanno subito una rivoluzione minore e l'ultima delle quali, nell'ambito del diritto penale in generale, è il passaggio dal sistema inquisitorio a quello accusatorio, quindi l'introduzione del contraddittorio della cross-examination. Il diritto penale d'impresa ha avuto un anno zero tutto suo che è quello della introduzione del decreto legislativo 231. Da lì è nata una nuova professione di avvocato che è il di penalista d'impresa, che è il consulente d'azienda in ambito di compliance penalistica. Bisogna però fare attenzione perché se da un lato le imprese oggi chiedono nell'ambito del penale d'impresa che ha assunto una valenza non soltanto repressiva ma anche preventiva, chiedono che l'avvocato sappia consigliare, supportare l'impresa nell'attività di compliance che è tesa al contenimento del rischio reato, è vero però che l'accertamento del fatto reato una volta che è commesso avviene con lo stesso modello che è quello del sistema accusatorio di 35 anni fa che è uno strumento difficilissimo da maneggiare per cui bisogna prestare estrema attenzione a da una parte essere competenti e capaci ad offrire quell'assistenza preventiva che sempre più viene richiesta al penalista d'impresa senza perdere un grammo della estrema abilità che serve all'avvocato in ambito forense. La cross-examination è una delle materie più complesse, più delicate, in cui vi serve tantissima esperienza giudiziaria. Un giurista, lei mi parlava del secolo scorso, ecco, un giurista che è vissuto a cavallo fra 800 e 900, un giurista statunitense, Wigmore, paragonava, perché all'epoca il paragone era assolutamente attuale, il contraddittorio alla baionetta e diceva, con una metafora vivida, chiara a tutti, che con la baionetta si può far tutto, si può vincere, la baionetta semplicemente bisogna stare attenti, a non sederci si sopra. Analogamente, diceva il giurista, con lo strumento del contresame, l'avvocato può veramente fare tutto nell'accertamento del fatto reato a condizione di non impalarci la propria causa, di avere l'abilità di non impalarci la propria causa, tradotto, di non fare la domanda di troppo, non fare la domanda di troppo, non fare la domanda maldestra, non fare quella domanda che a quel testimone serve anche un po' di psicologia per gestire il dibattimento, è ciò che ancora oggi fa la differenza fra penalista e penalista. E in questo senso quindi ben venga la nuova attività del penalista d'impresa a condizione di mantenere negli studi viva la fiamma della cultura forense, che non si deve perdere, perché ancora oggi l'accertamento del fatto di reato avviene nelle aule di tribunale. Grazie a tutti.